Però, ripeto, continuo a dire di essere innocente, però ripeto, noi non siamo abituati a criticarle le sentenze, siamo abituati da giuristi, da avvocati o ad accettarle per quelle che sono oppure ad impugnarle nelle opportunità di processuale ed è quello che noi faremo non appena avremmo avuto la motivazione. Grazie.